Gentili telespettatori, buona giornata. Dov'è finito il partito plurale? Una parte del PD contro la Schlein che fiancheggia quelli che impediscono agli altri di parlare. Sostanzialmente la Schlein ha avvallato quelli che impediscono di parlare. Quello che è successo a Eugenia Roccella, ministra al Salone a Torino, è solo l'ultimo episodio dove hanno impedito al ministro di presentare un suo libro. La Schlein ha girato intorno all'argomento e dice che il governo Meloni è allergico alle critiche, che non accetta il dissenso facendo finta di non sapere che il dissenso è sancito dalla Costituzione, protestare è sancito dalla Costituzione della Repubblica, ma impedire agli altri di parlare è vietato dalla Costituzione nelle postille dove si dice che è vietata la ricostituzione del disciolto PNF, PNF, Partito Nazionale Fascista, che impediva la libertà di parola. Quindi la Schlein, difendendo chi impedisce il diritto di parola, si sta dimostrando molto più nostalgica di quelli che alzano le braccia e che hanno i busti a casa del dittatore. Quelli sono da operetta, da teatrino, ma questa dice seriamente. La Schlein è seria, cioè quello che alza il braccio fa un po' ridere nel 2023, ma la Schlein che difende chi impedisce la libertà di parola fa paura. A me personalmente Giorgia Meloni non fa paura per niente, il governo Meloni e la Meloni sono un governo e un presidente del Consiglio assolutamente innocui, non farebbero male a un moscerino. Però quando guardo e vedo che cercano di impedire a San Giuliano di parlare all'università perché non deve avere diritto di parola, la roccella al salone del libro gli viene impedito di parlare e il capo della sinistra, la Schlein, dice che il governo non accetta il dissenso, quindi di fatto sta avvallando chi impedisce agli altri di parlare, sinceramente a me fa molta paura la Schlein. La Meloni no, non farebbe male a una mosca, a niente, neanche tutto il suo governo dove spesso ci sono dei personaggi un po' curiosi che anche loro è tutta messa in scena ma non farebbero male a un moscerino. Mentre guardando dall'altra parte diciamo che ti lasciano da pensare, ecco, persone che impediscono agli altri di parlare e vengono sorrette dai capi politici fa vedere che eventualmente queste persone sono inclini a un sistema dittatoriale di sinistra perché quando tu vuoi impedire agli altri di parlare e sei di sinistra, più che parlare di fascismo di sinistra io parlerei di comunismo, di regime comunista che cerca di impedire agli altri. Oggi nel mondo ci sono regimi comunisti dove ti impediscono di muoverti, di parlare. Prova in un regime comunista oggi a dire mezza parola fuori posto, sparisci, finisci in galera, ti danno l'ergastolo. Ecco, quindi a me questa parte, quest'area politica di sinistra che fiancheggia questa estrema ideologia fa paura, ma fa paura anche agli stessi politici del Partito Democratico che dicono dov'è finito il partito plurale perché tutti gli ultimi episodi messi uno in fila all'altro parlano proprio di singolarissimi eventi, hanno fatto salire il tasso di insofferenza dei cattolici democratici, non escono ancora allo scoperto per non essere accusati di lanciare un ponte verso Matteo Renzi, accusa ricorrente di questi tempi. È un fatto che però per 15 anni il PD è stato un partito gattopardesco, ecco, dove non si decide mai nulla, non si esce allo scoperto per non urtare le varie correnti che ci sono dentro, perché poi c'è sempre la logica della spartizione delle poltrone tra le correnti e se tu ti metti contro le altre correnti poi non ti puoi mettere d'accordo sulle poltrone, avete capito il perché? Però oggi la Schlein che non vuole più dare le poltroni e distribuirle tra le correnti ma come alle elezioni europee vuole proporre persone esterne come Lucia annunziata la giornalista, capite che queste correnti non avendo poi più poltrone da spartirsi cominciano ad alzare la testa e dire non siamo più contenti di questa Schlein, tra virgolette, non ci dà più neanche le poltrone, quindi ecco. E poi le sue idee, questo suo modo di vedere la politica intollerante dove il diritto di parola può essere anche cancellato visto che sono di destra, impedire di parlare a uno di destra è legittimo. Ecco, nell'idea sinistra impedire di parlare a quelli di destra è assolutamente legittimo perché loro sono il male assoluto, sono i discendenti di quelli là, sono gli stessi, quindi se quelli là erano il male assoluto loro sono i discendenti del male assoluto e sono il male assoluto e quindi non devono parlare, non devono neanche parlare perché la Costituzione dice che loro non dovrebbero neanche esistere, in politica non dovrebbero rappresentare nessuno perché la Costituzione li ha cancellati. Avete capito tutto il discorso che c'è di sottofondo su qualsiasi cosa e su qualsiasi tema? Il ministro presenta un libro, è uno di quelli, impedirgli di parlare, sono il male assoluto. San Giuliano va all'università a Napoli per parlare? No, impedirli di parlare, loro sono i discendenti, sono il male assoluto anche loro. Questa è l'ideologia di fondo. C'è insomma una rivolta sommersa che cova nel PD e potrebbe esplodere al prossimo incidente di percorso. Alla prossima volta che la capa Schlein fiancheggi nuovamente chi impedisce agli altri di parlare. Ecco, perché si chiedono in molti all'interno del PD, perché questo partito è sempre dalla parte sbagliata? Perché si mette sempre con chi e a fiancheggiare chi impedisce agli altri di parlare, chi fa i rave abusivi, chi arriva in Italia illegalmente? Possibile che sia un partito sempre dalla parte dell'illegalità? Sempre anti-italiano? Dalla Boldrini a Zanna a sostenere Trodo che attacca la Meloni su un qualcosa di inesistente? Perché essere anti-italiani? Perché fiancheggiare l'illegalità? Molti nel PD cominciano a chiederselo e cominciano a guardare verso Calenda e Renzi come una vera alternativa per sfuggire da un partito ridotto in questo modo. Arrivederci a tutti e grazie.